si ritorniamo da palazzo municipale con il sindaco andrea ceffa innanzitutto come vedete l'abbiamo chiamato sindaco perché in queste ore è successo veramente di tutto di più è stata una una telenovela peggio di beautiful con colpi di scena a non finire è una telenovela che si è chiusa con la parere del prefetto nessun scioglimento del consiglio sindaco giunta e consiglio comunale restano in carica oggi però con un grosso punto interrogativo chi ha presentato le dimissioni non ci riferiamo al consigliere capelli visto che il prefetto ha detto a chiara lettere che la volontà era palese anche con la pecca arrivata nel cuore della notte all'ufficio protocollo del comune di vigevano ma le altre dimissioni sono valide oppure no allora prima di tutto bisognerebbe interrogarsi se la volontà che è stata personalmente esplicitata di volersi diventare come ho sentito in questi giorni da parte di alcuni consiglieri non solo non per lo specifico scopo di mandare a casa l'amministrazione ma perché non si riteneva di voler più sedere all'interno dell'assise comunale perché era impossibile amministrare eccetera se queste volontà personali sono ancora valide perché comunque le dimissioni sono state presentate quindi ci sarebbe anche da capire questo il secondo sarebbe abbastanza bizzarro che a un certo punto questa come dire disperazione del rimanere in consiglio si tramuti scusate invece in qualcosa poi c'è il grosso tema delle surghe perché rispetto a quello che giustamente ha scritto il prefetto nel suo parere sono emerse proprio da alcuni articoli di stampa comparsi oggi degli elementi quello della regia quello del fatto che ci si fosse presentati prima delle otto eventi che era l'appuntamento che avevano tutti i consiglieri per protocollare consigliere far protocollare le proprie dimissioni sia stato anticipato perché sapevano che il consigliere Capelli era intenzionato a revocare le proprie dimissioni quindi sono andati prima per evitare al consigliere Capelli di esercitare il suo diritto di revocare il documento di dimissioni beh è evidente che si può presumere vi pare che i consiglieri gli altri consiglieri fossero consapevoli quindi se fossero stati consapevoli avrebbero potuto ritirare le dimissioni perché sapevano che a quel punto l'effetto non si sarebbe ottenuto quindi questa è una valutazione che chiaramente stiamo cercando di fare ma non che non arrivino delle dimissioni prima però ecco questo è un elemento che non poteva ovviamente essere evidente neanche al prefetto perché non c'erano, cioè non erano uscite questo passaggio non era uscito finora è uscito oggi e su questo ovviamente ci stiamo interrogando stiamo consultando gli avvocati stiamo cercando di capire quale strada poter perseguire ecco in caso di non accoglimento dell'essurro cioè quindi praticamente per la serie è come se non fosse accaduto nulla ci resta però un problema all'interno della maggioranza una maggioranza che oggi è formata solo da 13 persone compreso il sindaco e la tredicesima è quella che nella notte ha ripensato come ha detto l'avvocato Paolo Rossi Zorzoli è stato ammaliato e poi si è illuminato beh insomma sì il consigliere Capelli avrà fatto le sue valutazioni non posso parlare diciamo per conto suo ecco probabilmente rispetto a immagino quello che gli era stato illustrato come progetto ecco probabilmente politico di alternativo poi magari si è convinto che non era esattamente quello che lui voleva ripeto non avrei altro modo di interpretare questa cosa certo noi in questo momento possiamo prendere atto di quello che c'è non è una situazione facile una maggioranza risicata una maggioranza risicata e però per il momento siamo qui cercheremo appunto di capire che cosa fare ecco non nego questo aspetto che mi sembra che sia assolutamente palese ed evidente ecco lei nel suo intervento prima in conferenza stampa ha parlato della regia una regia che non è stata solo politica perché lei ha citato un articolo apparso proprio nella mattinata odierna dove si dice a chiare lettere che l'accelerata rispetto a questo tentativo di golpe che era iniziato già con le prime riunioni a giugno poi si era ripresi a settembre e c'è stata un'accelerata nelle ultime settimane quando sono entrati testuali parole dell'ex assessore Gianpietro Pacinotti oggi esponente del terzo polo di azione di calenda c'è stata questa accelerata quando sono entrati anche dei personaggi molto conosciuti in città quindi personaggi che non fanno parte della vita politica che idea si è fatto di questo? non lo so così sembrerebbe effettivamente come ho detto prima il fatto che da quello che leggo insomma si intuisce una regia esterna mi pare che non sia molto questa cosa all'interno di quelli che dovrebbero essere i meccanismi e i crismi del funzionamento di un organismo democratico cioè il Consiglio Comunale legittimamente eletto dei cittadini cioè è chiaro che ogni cittadino o imprenditore piuttosto che rappresentante dell'associazione insomma chiunque fa parte della società civile è giusto che interlonquisca rappresenti le proprie istanze i consiglieri, al sindaco in maniera palese per vedere di attuare le richieste che vengono fatte cosa diversa è come si legge qui invece operare un'operazione diciamo fatta di questo tipo che invece è fatta per mandare a casa l'amministrazione che invece comporta di creare grossi problemi per il proseguio delle attività che in città devono essere portate avanti poi tra l'altro io qui l'ho detto prima in conferenza stampa ringrazio perché qui c'è scritto virgolettato molti di noi hanno stima di CEF e quindi se avevano stima di me potevano e possono anche continuare ad avercela e magari voglio dire prima si poteva come dire affrontare questa questione all'interno del consiglio comunale in altro modo perché qui si dice hanno molta stima di CEF e invece si intuisce Sala catalizza i manumori ma io voglio dire a parte che l'ex sindaco Sala è stato votato da più di 1500 cittadini una cifra direi abbastanza importante ma comunque al di là di quello come ho detto prima non credo che sia possibile che una antipatia personale piuttosto che una non condivisione magari anche dell'operato di un componente della giunta sia giustificazione necessaria e sufficiente per mandare a caso un'intera amministrazione cioè mi sembra veramente qualcosa di folle ecco ecco lei ha detto prima io non provo rabbia ho provato solo tantissima amarezza e tantissima tristezza soprattutto perché ha detto prima del signor sindaco non c'è mai stata un'avvisaglia no esatto non c'è mai stata un'avvisaglia cioè di solito quando avvengono perché è già capitato altre volte la presentazione di dimissioni di massa con l'obiettivo di far cadere l'amministrazione però prima c'era stato un dibattito politico acceso o c'erano magari stati confronti diretti io dai quattro consiglieri di maggioranza non ho mai avuto al di là di alcuni confronti come faccio con tutti gli altri consiglieri di maggioranza rispetto a che cosa fare in città a che cosa dare priorità come muoversi per risolvere i problemi non ho mai avuto palesate delle insoddisfazioni o delle malumori tali a poter pensare un'azione di questo tipo ma come non si sono neanche mai palesati indirettamente io sfido chiunque a trovare un articolo di stampo un'interrogazione in consiglio qualsiasi cosa un'assenza diciamo come di solito si fa il mal di pancia classico che fa mancare il numero legale oppure anche una sfiducia in consiglio votare apertamente di solito succede così contro l'amministrazione per mandare un segnale di solito il percorso è questo cioè si crea un malumore poi si arriva magari alla crisi dentro o fuori il consiglio comunale questa che pare invece più una congiura è proprio perché non c'erano stati elementi preparatori a questo gesto quindi è ancora più assurdo questo stavo cercando di spiegare in conferenza stampa ok grazie signor sindaco grazie grazie a tutti